Il sipario di Aracne TV si apre sul protagonista di oggi e oggi diamo il benvenuto al professore Silvio Massimo Lavagna è direttore scientifico del progetto approvato nel 2018 dal Mise sui farmaci biosimilari da piattaforma trasgenica vegetale è professore di ruolo presso la Sapienza, Università di Roma dove insegna chimica e tecnologie farmaceutiche essendo il professore laureato in ingegneria chimica è direttore scientifico del progetto Life 2020 per la ricerca su farmaci innovativi solido orali insieme all'ISPELS, ai NAS, ai Medici Senza Frontiere, alla Croce Rossa all'Ordine dei Biologi si è occupato di infezioni ospedaliere tanto da essere il primo in Italia a consegnare una targa da parte della Sapienza, Università di Roma alla vedova del dottor Carlo Urbani scopritore della SARS e rimasto vittima di questa terribile malattia è responsabile per la facoltà di farmacia dei tirocini e della formazione per gli stage in ambito industriale dedicati agli studenti e ai laureati aiuta i ragazzi a trovare lavoro in sintesi è autore di numerosi brevetti tra cui un distillatore a radiofrequenza per uso farmaceutico e ospedaliero atto a ridurre i rischi di contaminazione da batteri e tossine nell'acqua utilizzata per le preparazioni è entrato in contatto con importanti multinazionali del farmaco e grandissime compagnie di ingegneria per impianti petroliferi, petrolchimici e chimico-farmaceutico-sanitari lavorando in numerose parti del mondo infatti dopo la laurea in ingegneria chimica il professor Lavagna si specializza e lavora per la SNAM di Monte Rotondo per la francese TECNIP per l'AGIP del gruppo ENI negli impianti onshore ed offshore tra cui la piattaforma del Golfo della Sirte e per il gruppo Ferruzzi Montedison precisamente per la Carlo Erba e la TECNIMON mantiene tuttora un'attività di libero professionista e consulente lavorando per aziende di mezzo mondo che vanno dalla Finlandia all'Ungheria dalla Germania all'Iran dalla Russia alla Nigeria all'Egitto, Marocco, Cina e Shanghai quindi veramente grandissime collaborazioni in collaborazione con l'Enea la sua società di ingegneria ha realizzato il laboratorio di ricerca meccano-chimica specializzato in nanotecnologie è ovviamente autore di diverse opere a carattere scientifico tra cui si ricordano gli otto volumi di ingegneria farmaceutica il manuale del giovane ingegnere fondamenti di impianti dell'industria farmaceutica e soprattutto il libro edito con Aracne dal riso biotech ai farmaci del futuro una lunghissima presentazione ma chi è davvero Silvio Massimo Lavagna questo ce lo racconterà lui sarà lui stesso a svelarlo al pubblico di Spazio Scenico benvenuto professore vi ringrazio ringrazio tutti i telespettatori dell'Aracne e i vostri diciamo follower grazie per essere qui grazie per essere qui è stata una lunghissima presentazione perché lei non è certo il classico professore che è rimasto chiuso dentro l'università perché ha avuto una serie di esperienze lavorative una carriera lunghissima sia come professore che come scienziato sta portando avanti una ricerca molto importante che parte dal riso e dallo scopo di arrivare a dei farmaci importantissimi e costosissimi che ci racconti sinteticamente sinteticamente come già anticipato lei in questo libro dal riso a bioteca al farmacosì del futuro si utilizza una piattaforma vegetale che è stata diciamo geneticamente modificata in maniera opportuna per far sì che questo riso possa produrre al suo interno come produce le proteine del riso normale che noi mangiamo normalmente produca anche il farmaco questo farmaco è un farmaco cosiddetto biosimilare cioè che sono dei farmaci che derivano da una diciamo da una brevettualità delle big pharma e che adesso scaduto il brevetto si possono realizzare come realizzarle? realizzarle con una piattaforma vegetale che è una piattaforma green una piattaforma che non utilizza batteri o lieviti o topi transgenici ma utilizza diciamo le piante per poter fare lo stesso farmaco ecco sento una cosa lei ha nominato le big pharma diciamo che le grandi industrie farmaceutiche sono molto dibattute sono sempre sotto l'occhio dei riflettori e l'opinione pubblica in genere non ne ha una buona percezione ora lei ha avuto ovviamente per ragioni lavorative è entrato in contatto con queste grandissime realtà secondo lei a cosa puntano di più perché poi è quello il discrimine a trovare una cura veramente oppure a guadagnare e magari anche anche se poi non si trova proprio la cura un palliativo che va avanti e che costringe il malato a comprare per più tempo forse è anche meglio perché poi di quello si parla ecco diciamo che le big pharma non sono enti di beneficenza sono delle aziende che devono fare un fatturato e quindi hanno diciamo degli azionisti e soprattutto in America devono rispondere trimestralmente alle azionisti quindi la ricerca loro è mirata non solo a fare profitto ma anche a fare farmaci che gli fanno fare profitto per cui la ricerca insegue in un certo senso il beneficio economico e il beneficio economico insegue la ricerca è un loop al circuito chiuso però con le diciamo con le grandi diciamo disponibilità economiche che hanno loro riescono a fare ricerche che magari diciamo i privati più piccoli oppure anche gli enti pubblici non riescono a fare non riescono a fare ovviamente questo è un po' il pregiudizio che esce fuori da tanti fatti di cronaca è chiaro che non stiamo parlando di enti di beneficenza però tanti hanno comunque sia lavorato in questo settore e noi abbiamo magari l'idea di professori come appunto il professor Urbani che studiando la SARS poi ne è rimasto vittima quindi di un'idea di medicina e di chimica farmaceutica ben diversa qual è l'etica che l'ha portata verso questo settore c'è c'è stata una spinta emotiva beh diciamo è tutta la mia storia perché io faccio la tesi di laurea nella SNAP progetti nel settore della biofarmaceutica allora si parlava impropriamente di biotecnologie ma era biofarmaceutica ancora non c'era una conoscenza approfondita del DNA e della manipolazione del DNA come c'è adesso dopo 30 anni però mi aprì un mondo che venendo dall'ingegneria chimica che era fatta di petrolio di plastiche di vernici eccetera non c'era questo settore e questo settore sicuramente mi ha aperto diciamo mi ha cambiato la vita perché io da lì facevamo le penicelline diciamo per via enzimatica cioè venivano fatte le penicelline semisintetiche partendo da enzimi che erano intrappolati in fibre allora parlare allora di queste tecnologie era avanzatissimo in concorrenza con noi io ero un ragazzino comunque c'era il professor Bicham che poi è diventata la Smith Klein Bicham quindi parliamo di tecnologie molto avanzate senta per quanto riguarda i rischi che si corrono con le sostanze chimiche noi vediamo spesso queste notizie terribili di lavoratori di operai di impianti metalmeccanici che rimangono dentro questi grandi silos questi serbatoi perché magari innalano delle sostanze chimiche ci sono stati casi a Porto Marghera anche ultimamente ne sono successi purtroppo troppi secondo lei lì c'è una colpa una colpa un errore umano che induce magari a sottostimare i rischi o c'è anche una consapevolezza da parte dell'azienda che non investe in sicurezza beh oggi diciamo le normative sulla sicurezza sono molto più stringenti c'è anche un progetto ricce europeo di cui abbiamo fatto una scuola di specializzazione alla sapienza di cui ci spaccio partecipe anche io sono presente per diciamo far sì che vengono abbandonate tutte le sostanze tossiche che sono state utilizzate fino ad oggi e sostituite con altre sostanze che non abbiano questa tossicità quindi c'è una tendenza del mondo però verso migliorare diciamo l'uso delle sostanze chimiche e impedire che ci siano dei pericoli diretti è chiaro che poi una sorveglianza locale da parte di addetto alla sicurezza ci deve essere perché spesso si commettono anche delle azioni insomma si possono essere come si può far male una casalinga dentro casa perché magari usa la centrifuga non toglie la corrente in quel momento eccetera e ci vogliono dare sicurezza la sicurezza si divide in intrinseca e strinseca intrinseca cioè la macchina già ti protegge cioè se uno fa una manovra sbagliata già ti protegge quella è strinse che invece ci deve essere tutto un contesto che ti aiuta se l'operaio cade dentro una cisterna e dentro c'è rimasta l'anidride carbonica oppure l'azoto che essendo un gas che non possiamo respirare se non miscelato con l'ossigeno è chiaro che abbiamo un danno senta noi immaginiamo un chimico ancora diciamo con l'idea un po' antica attempata di alambicchi e formule astruse però in realtà poi vediamo e lo vedo anche dal suo curriculum che la chimica entra in tantissime in tantissime forme della nostra della nostra esistenza in tantissimi modi oggi secondo lei quanto è importante essere al passo con i tempi e quanto stiamo facendo secondo lei quanto viene investito in questa ricerca in Italia beh diciamo la chimica viene percepita forse in maniera ingiusta nel senso che noi siamo circondati da chimica da tutto da questo tavolino questo microfono è fatto di plastica questo qui è cromato con sostanze chimiche eccetera quindi siamo circondati dalla chimica si tratta di farla vedere nel modo giusto sia al grande pubblico sia agli studenti che devono scegliere un corso di laurea a proposito di questo volevo entrare anche nell'argomento tanto dibattuto oggi perché sembra essere scoppiata veramente una guerra un po' dettata dalla corsa a una maggiore efficienza fisica a una longevità che deve essere eterna quasi che è ispirata anche alla cultura del diversano su cui ovviamente non c'è nulla da dire però è un modo di pensare che non esisteva oggi sembra che ci siano dei caposaldi la carne è veleno lo zucchero assolutamente ancora peggio le farine se sono quali sono lei che è un chimico che conosce le molecole che cosa ci può dire di questo può darci una sintesi un suo parere beh innanzitutto diciamo dobbiamo capire una cosa che se noi utilizziamo degli ortaggi della frutta eccetera che sono state trattate con sostanze chimiche è chiaro che quell'ortaggio o quella frutta se le assimilate poi noi ce le portiamo dentro quando le mangiamo però magari il mercato preferisce una mela perfetta però potrebbe essere una mela che vedece ne rentola cioè che è avvelenata dentro perché c'ha tante sostanze chimiche che alla fine ci portano un danno alla salute quindi il problema di oggi è la fonte cioè di come viene trattata la frutta gli ortaggi eccetera lo stesso tè che se viene irrorato con gli aerei e poi siccome è una tisana che uno immerge direttamente nell'acqua calda immaginiamo che insieme al tè noi estraiamo anche l'antitritogrammico che è l'aereo spalso sul tè senta professore io conoscendola fatico ad immaginarla come uno dei classici baroni perché mi sembra una persona comunque molto aperta e mi conferma anche il suo curriculum e chi la conosce che ha sempre aiutato molti giovani ad entrare veramente nel mondo del lavoro e non a restare confinati con il loro bel pezzetto di carta a proposito dei baroni lei come vede questa categoria esiste anche nel suo ramo immagino diciamo che i baroni come erano concepiti sia per il numero ristretto se pensiamo che dopo la guerra c'erano 2000 professori universitari adesso sono diventati 60.000 possiamo immaginare quanto potere potessero avere 2000 persone io che ho avuto mio padre che era professore universitario avevo il grado superiore al generale che lo comandava quando stava al comando generale dello stato maggiore a Pudignano quindi questo adesso con un po' con l'università di massa un po' con le nuove leggi che sono state fatte chiaramente questo concetto di barone si è andato scemando secondo lei c'è qualcosa siamo quasi in chiusura perché purtroppo un quarto d'ora passa prestissimo ma c'è qualcosa che lei sogna che lei si augura anche per le sue prossime ricerche perché sta guidando due progetti molto importanti beh guardi questo della piattaforma vegetale lo trovo veramente è un progetto di ricerca molto bello molto avanzato e molto entusiasmante perché è a beneficio dei pazienti a costi molto ridotti ci darà sicuramente dei farmaci che possono essere utilizzati in maniera più diffusa perché purtroppo le malattie tipo quelle tumorali si stanno diffondendo di più per una serie di motivi ambientali alimentari di stili di vita però è un progetto che ha un suo futuro adesso non so se potrà essere ostacolato o meno dalle big pharma o no noi andiamo per la nostra strada sperando che questo noi ci auguriamo noi ringraziamo salutandolo ovviamente il professor Silvio Massimo Lavagna grazie di essere stato con noi professore e ci auguriamo che tornerà a trovarci anche per oggi è tutto spazioscenico torna come sempre con altri protagonisti ed altre storie tutti i giorni su Aracne TV grazie a tutti